Buongiorno a tutti, allora, 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 si è disputata la quindicesima giornata nel campionato di Serie A, andiamo a vedere com'è andata partendo dalla gara di venerdì dove il Napoli si è mangiato l'impossibile e la Juventus cinica e malefica come sempre con miau, miau, gliel'ha messo nel puli, 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 fa il tacchino, qua, 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 lochetta e il Napolino va giù e può puntare solo al quarto pasto. Ragazzi, è inutile che De Laurentiis dica, ah, senza gli aiutini, senza questo non si dice, no, se sbagli un gol a porta vuota è giusto che perdi. Certi gol te li puoi permettere di sbagliare quando giochi contro le squadrette, anzi neanche con quelle perché cos'è stato l'Empoli che è andato a vincere a Napoli dopo che il Napoli si è mangiato l'impossibile, l'Union Berlino che non faceva punti neanche a piangere è andato a pareggiare a Napoli 1 a 1 dopo che si sono mangiati l'impossibile, con Real Madrid hanno avuto l'occasione di andare sul 2 a 3 se ne lo sono mangiate e hanno vinto tra due in Real Madrid se non sbaglio anche nella gara di ritorno. Ragazzi, Carascheglia si è mangiato un gol che di solito lui non sbaglia, ma perché me l'hanno messo in attacco? Al fantacalcio l'hanno messo in attacco e quest'anno lui non è un attaccante, continua a dire. E infatti si è mangiato il gol, facile facile. Invece il micione ha saltato, ha fatto miau e l'ha messa là. E vanno avanti così. Ve l'ho detto, mi ricordano l'Inter di Miranda e Murillo che sembrava che andavamo avanti 1 a 0, 2 a 1, 1 a 0, 2 a 1, 1 a 0, fino alla 16esima, 17esima giornata. Poi è finita la sciambola e boom, esploso. E la Juve prima o poi, prima o poi, attendiamo. Tanto non è un problema, noi abbiamo tempo, noi, come diceva quello là. Gli altri no, gli altri no, perché se la Juve va all'Inter va, gli altri non la prendono più e devono scattarsi per gli altri due posticidi per la Champions. Veniamo a Verona, Lazio. Ragazzi miei, la Lazio, la Lazio, la solita squadra, Crea, primo tempo in cui ha creato molto di più del Verona, infatti era 1 a 0, colpo di tacco di Zaccani alla Bancini, se mi permettete il termine, o alla Zola, o che ne so, scegliete voi, o alla Rababager, banile così per salutare il pubblico e dire scusate, scusate ho fatto gol, giustamente da ex, cosa che a me, ripeto, non piace. Io non vedo perché un giocatore non possa esultare quando segna, la cosa importante è non offendere la tifoseria per cui magari tu hai giocato, ma non esultare mi sembra un po', cioè, vabbè, comunque ormai c'è questa voga qua, Serena esultava sempre, ha giocato nell'Inter, nel Milan, nella Juve, nel Torino. Segnava Inter, Milan, Juve, Torino, giocando con l'altra squadra, ha sempre esultato, non l'ha mai insultato nessuno, l'hanno sempre tutti rispettato, non vedo perché uno non possa esultare. Poi però nella ripresa al Verona, un po' con i cambi, eccetera, eccetera, la stava ribaltando perché aveva pareggiato e qui c'è l'errore, signori miei, molto grave di Baroni. C'è il Duda Bonito, appena fatto un fallo a centrocampo ed è stato graziato, vedi che hai raggiunto l'1-1, togli, lo metti dentro magari un incontrista, un giocatore sposti, magari indietro il buon Lazovic, ma lo togli, perché a rischio, non l'ha fatto. Come ho visto i cambi, ho visto che non aveva tolto Lazovic, ho detto, ahia, adesso il Verona resta i 10, non ho finito la frase. Ragazzi, Ego My Chicken, conosco i miei polli, ormai il calcio lo seguo da troppi anni, da più di 40 anni, fermiamoci da più di 40 anni, e conosco i miei polli. Quindi poi la Lazio ha rischiato di vincerla. Il buon Casale ha segnato, però ragazzi miei si è visto lontano un biglio che ha dato un bel rusone, come dicono qua al nord, una spinta bella secca al giocatore che lo stava marcando, quindi gol giustamente annullato, e poi naturalmente il Verona c'ha, come quasi tutte le squadre, perché quasi tutte le squadre hanno degli ottimi portieri, poi ne parleremo dei portieri, ma il buon Montipò, ragazzi miei, ha fatto due o tre interventi, mica da ridere, tenendo in vita la squadra. Quindi Verona-Lazio 1-1, pareggio alla fine che ci sta. Andiamo ad Atalanta-Milan, partita bella, divertente di partite, così ne vorrei a pacchi, ma non perché ha perso il Milan, non me ne frega una beata Giovanna, tanto sono gli scappati di casa, sono meno 9. Il pareggio poteva andare anche bene, ma proprio perché queste partite 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, praticamente l'Atalanta che è sempre data il vantaggio per primo, 1-0, 1-1, 2-1, 1-1, 2-2. Poi quando sembrava che il Milan dovesse, si fa espellere Calabria, ma oramai eravamo all'ottantasettesimo, la puoi gestire quella partita lì, sai 2-2 la gestisci, tanto è uscito Calabria, con tutto il rispetto, però ci sono giocatori ben più forti del Milan di Calabria. Cioè mi sa che Ibra arriverà e dirà, bene o male non gioca Calabria, qualsiasi giocatore meglio di Calabria, pure io giocare terzino meglio di Calabria, però i milanisti lo adorano, è questione di gusti, Busnò disputando, dicevano gli antichi. E il buon Muriel si ha inventato il gol di tacco anche lui, e poi è impazzito, ha iniziato a fare, col sorrisetto a girare come un pazzo, facendo questo gesto qua con la mano, per il golasso che ha fatto. E quindi Milan beffato 3-2, ma anche il pareggio non è che sarebbe cambiato più di tanto, però è un su tre punti pesanti per l'Atalanta, che torna lì, nella zona che conta per l'Europa. Perché quest'anno abbiamo un Bologna, che si è, dopo ne parleremo anche del Bologna, ma proseguiamo con le gare di domenica. Frosinone-Torino 0-0, partita che ho visto, partita noiosa, partita con poche occasioni da gol da una parte e dall'altra, proprio una noia mortale. Di solito alle 12.30 vengono sempre fuori delle partite divertenti, con pathos, eccetera, no, stavolta veramente una tristezza. Stesso discorso per Monza Genova, la cui unica occasione clamorosa ce l'ha avuta Retegri sul tiro cross da Soterra, è che il pallone arrivava troppo forte, lui ha voluto andare di piattone quando sarebbe bastato toccarlo con la punta e ha ucciso il piccione, anche perché eri a due metri fuori dall'area piccola, esagerando. Quindi bastava toccarlo, andava dentro. L'ha voluta toccare Ford, la tocco piano, e l'ha impagata, perché poi è arrivato il gol del Monza con il buon Dani Mota. Ben servito in area, classica azione, no cross basso, il giocatore che la prende di piatto la incrocia e la mette nell'angolino, lì dove il portiere non ci può arrivare. Poi vabbè, il Genova ci ha riprovato quasi subito con il Dragusin, ma se l'ha allungata troppo e l'ha tirata sull'esterno della rete. Devo calciare subito. E invece non l'ha fatto. Se l'ha allungata troppo, ha saltato il Di Gregorio, ma a quel punto lo spazio era finito e l'ha tirata sull'esterno della rete. Veniamo a Salernitana, Bologna. E ragazzi miei, la Salernitana ha fatto a Arachiri. In 25 minuti il Bologna era già 2-0, quindi la partita era già chiusa. Poi vabbè, il buon Federico Fazio ha pensato bene di farsi espellere al 92esimo, così lo perdono per la prossima gara. E a nulla è valso il bel gol di Simi al 75esimo, perché poi sì, la Salernitana ci ha provato fino alla fine a raggiungere il pareggio, senza riuscirci. quindi tre punti pesanti per il Bologna, che ragazzi miei quest'anno il Bologna punta decisamente a un posto in Europa. Che sia Europa lì, che sia Conference, può farcelo. Sarà dura, perché comunque c'è la Roma, c'è la Lazio, c'è la Fiorentina, c'è l'Atalanta, ce ne sono di squadre, dando per scontato che le tre strisciate più il Napoli arrivino tra le prime quattro, le altre si giocheranno gli altri tre posti europei. Poi bisognerà anche vedere chi vincerà la Coppa Italia, perché anche lì diventa fondamentale chi vince la Coppa Italia. Se la vince una squadra tra le prime sei, nel settimo posto va a chi ha la squadra che va in Conference. Altrimenti, la sesta va in Conference, la quinta è in Europa League, la settima lo prende nel pulipù. Veniamo a Roma, a Fiorentina. Roma è in vantaggio sull'asse Di Bala-Lucacone, con Lucacone che in tuffo di testa segna comodamente sull'asse Slippini di Di Bala. Poi, come al solito, Di Bala si fa male, Zaleschi si fa espellere. Come si è fatto espellere Zaleschi? La Fiorentina l'ha pareggiata con Martinez IV. Poi hanno rischiato anche di perderla. Lucacone è andato a fare un fallo inutile sulla fascia che non si è capito che cacchio ti è venuto in mente. Roma addirittura in nove che alla fine è riuscito a portare a casa il pareggiotto. Però, ragazzi miei, qualcuno chiedeva oggi a Luca Nerazzurro se Mourinho è bollito, eccetera. Non è questione di essere bolliti o meno. Gli allenatori allenano squadre che possono essere da primo posto o da decimo posto o da ventesimo posto. la bravura dell'allenatore è cercare di trasformare da delle rape il sangue, no? Questo è un allenatore che trasforma che riesce a spremere da una rapa il sangue, ecco. Siccome la Roma non è che a parte Di Bala e Lukaku non è che ha dei fenomeni, eh. Non bene voglia dei tifosi giallorossi non bene voglia da Sigford & Company però non mi sembra che la Roma ha dei fenomeni o una squadra da primo posto. Indi, per cui Mourinho deve fare di necessità di Virtù un po' come fa Allegri. Se ne fotte altamente dello spettacolo, eccetera e cerca di far funzionare la squadra il meglio possibile in base a quello che è in mano. Quindi, logicamente, la butta sulla battaglia visto che ha comunque giocatori un po' di prestanza fisica ce l'hanno Lukaku in primis e però poi dopo si eccede trovi la squadra tecnica e che ti mette via. In più vedendo anche certe partite non so quanto la squadra sia con l'allenatore perché anche con lo Slavia Praga o Sparta Praga che dir si voglia non sono neanche scesi in campo. Ed era una partita importante perché capite che arrivare secondi in Europa League vuol dire poi fare il preliminario andare a beccarsi la terza qualificata della Champions se non è mai una partita semplice. Quindi per cui pareggio tra Roma e Fiorentina il buon cattolo aveva presa ha detto pareggio ha pensato proprio Roma in vantaggio in Fiorentina che la pareggia dopo tutto tutto azzeccato però forse non si aspettava una Roma che finiva in nove. vediamo l'Empoli Lecce allora primo tempo ha giocato meglio l'Empoli ma ha segnato il Lecce nel secondo tempo l'Empoli ha insistito a giocare bene e alla fine ha meritato il pareggio e bisogna dire che il buon Falcone ha dimostrato un'altra volta qualora non si fosse ancora capito di essere un portiere super affidabile perché anche l'altra sera ieri sera contro contro l'Empoli il buon Falcone ha tirato fuori dei palloni che non sa neanche lui come ha fatto e comunque uno a uno tra Empoli e Lecce pareggio il classico meglio due feriti che un morto però forse forse del computo totale andiamo a vedere un attimo le statistiche perché ho guardicchiato la partita 18 tiri a 14 6 a 5 no è partita equilibrata la cosa brutta è stato il gol che ha preso il buon Beriscia Beriscia la piscia che ha fatto buoni interventi anche lui su quel tiro di banda è andato proprio allora la cosa che ti insegnano quando fai il portiere e vai a non tenere le gambe larghe quando vai a prendere un pallone che ti arriva e vuoi metterla a mano davanti gambe chiuse corpo avanti in modo che se ti scappa dalle mani ti ribalza sul corpo lui ha tenuto le gambe larghe è andato giù con le mani per prendere la palla la palla ha avuto uno strano effetto gli è passata tra le mani e in mezzo alle gambe è terminato il gol quindi un gollonzo clamoroso preso da Beriscia che ragazzi miei fino adesso non gli si poteva dire nulla non mi sembra avesse fatto papere anzi fino a un po' di tempo fa stava facendo molto bene veniamo a Cagliari Sassuolo e questo Cagliari che non muore mai questo Cagliari che nei minuti di recupero ti ribalta le partite non è la prima volta Sassuolo perché recrimina per il fuorigioco millimetrico ragazzi miei c'era la simpatica Lucrezia che dice ah no bisogna cambiare il regolamento perché se fuorigioco è fuorigioco non è che puoi star lì facciamo che ci sono 15 centimetri fai incasinare gli alleni è come il fallo di mano se il braccio è largo è largo è rigore lo so anch'io che non l'ha fatto apposta ma se il braccio è largo è calcio di rigore a parte per una certa squadra che gioca a pallavolo ma vabbè sorvogliamo quello non è mai rinaglio perché c'è il braccio c'è il braccio davanti davanti al corpo c'è l'acqua però c'è la davanti al corpo eh no ma il pallone arrivava per così quindi il braccio è parallelo al corpo sorvogliamo anche lì non è mai volontario a meno che proprio vai a salvare un pallone sulla riga ma se no un giocatore è istinto di metterlo a braccio così magari e non ci perché non ci pensi sei carico di adrenalina è rigore cioè il braccio alle braccia un po' larghi rigore è il fuorigioco uguale che sia un centimetro un millimetro dieci centimetri un metro quello che è se sei più avanti sei più avanti c'è il milione più avanti fa niente hai il milione più avanti certo dà fastidio siamo tutti d'accordo ti girano le balle soprattutto magari se hai fatto anche un bel gol però questo è il regolamento punto non è che possiamo cambiare il regolamento e dire no o cambiamo il regolamento completamente e torniamo a ci deve essere luce tra i due giocatori quindi nessuna parte del corpo del difendente deve essere a contatto o parallela con quella dell'attaccante e con il metodo quello lì si può fare o se no si va avanti se una parte del corpo atta a segnare quindi anche la spalla perché tu puoi tac segnale di spalla perché no qua vedendo il braccio vicino fai tac segni quindi anche la spalla come è successo nel gol annullato all'inter che era avanti di una spalla questa parte qua c'era avanti solo questa parte questo pezzettino qua era più avanti fuori gioco c'è niente da dire è il regolamento o lo cambiano decidono se i due giocatori non si toccano e quell'attaccante più avanti è fuori gioco se invece una parte dell'attaccante e una parte del difensore si toccano il giocatore è ancora in gioco potremmo cambiarla così ma aspetta all'AIA o alla FIFA o alla UEFA o al board come cacchio si chiama del calcio decidere se cambiare la regola del fuorigioco vedo se no è fuorigioco anche se è un centimetro punto detto questo ragazzoli vittoria libidine del Cagliari prima ha segnato il buon la padula che un attimo prima si era preso una scarpata sul naso e dopo il golasso di Pavoletti in rovesciata che è stata la giornata dei gol belli la rovesciata di Pavoletti il colpo di tacco di Muriel il colpo di tacco di Zaccagni scegliete voi quello che vi piace di più non metto il gol dell'Inter perché ne abbiamo fatti troppi poi poi non è che belli sì però mi piacciono i gesti tecnici detto questo ragazzoli andiamo a vedere la classifica o meraviglia e poi vediamo anche la prossima giornata che cosa ci aspetta prima la classifica o meraviglia che vede l'Inter a 38 punti la Juventus a 36 punti e poi il vuoto perché il Milan è a 29 la Roma è a 25 col Bologna il Napoli a 24 con la Fiorentina l'Atalante a 23 il Monza e la Lazio sono a 21 pensate Monza e Lazio a 21 Torino a 20 Frosidone a 19 Lecce a 17 Genova a 15 Sassuolo a 15 Cagliari a 13 Udinese a 12 Empoli a 12 Verona a 11 e Salernitana a 8 quindi lotta per non retrocedere che per il momento vede sempre impegnate le solite note Cagliari Udinese Empoli Verona e Salernitana e credo che tra queste 5 uscirà la triade che andrà in serie B non penso per il momento che Sassuolo e Genoa per il momento verranno agganciate in questa lotta così come non penso Lecce però il campionato è ancora lungo quindi se dovessi dire quale tra queste che ho detto Sassuolo Genoa e Lecce perché Frosidone mi sembra già troppo a meno che non gli portano via su lei a gennaio e allora potrebbe avere un po' più di difficoltà però se no penso che il Frosidone sia abbastanza tranquillo se a gennaio non vanno a fare incetta di giocatori di le varie squadre il Frosidone si dovrebbe salvare tranquillo tra Sassuolo Genoa e Lecce penso più Lecce e Genova che non il Sassuolo che è molto più abituato a giocare in Serie A eccetera eccetera però ragazzi miei tre punti non ti garantiscono nulla ma io guardo anche le rose delle squadre quindi punto anche molto su quello certo un Cagliari che ricomincia a ritrovare la Padula e Pavoletti al 100% può salvarsi veramente alla grande vedremo 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 e vedremo anche la prossima giornata di campionato che parte con Genoa Juventus venerdì sera poi avremo un Lecce Frosidone che è una bella sfida tra due squadre che sono lì lì vittoria del Lecce vorrebbe dire sorpassare o agganciare il Frosidone sorpassare sorpassare il Frosidone Frosidone che non andrà sicuramente a mettere il tappetino ma a giocarsela come se la giocano sempre quindi sarà una bella bella partita poi Napoli Cagliari è un'occasione per il Napoli per portare a casa tre punti pesanti ma attenzione al Cagliari Torino Empoli Milan Monza una bella sfida alle 12.30 con un Milan riduce dalla Champions che potrebbe avere il morale alle stelle qualora fosse riuscito nel miracolo di vincere a Newcastle e soprattutto di sopravvanzare il Paris Saint Germain o col morale sotto i tacchi che magari torna da una batosta trementa con Newcastle e attenzione perché il Monza zitto zitto cacchio cacchio potrebbe anche riuscire nel colpaccio che fa anche riva Udinese Sassuolo sfida salvezza a questo punto anche qui vale lo stesso discorso di Lecce Frosidone occasione per l'Udinese per sorpassare il Sassuolo e metterlo in difficolti Fiorentina Verona partita sulla carta abbastanza scontata però questo Verona ragazzi miei andrà a Firenze a giocarsela poi la Fiorentina è più forte però vedremo Bologna Roma sfida europea a questo punto ragazzi miei questa diventa una sfida europea e la Roma rischia di andare a Bologna senza Di Bala forse e senza Lukaku sicuramente perché è stato espulso quindi attenzione a questo Bologna che potrebbe fare sgaus alla Roma Lazio Inter domenica alle 20.45 e infine lunedì una partita che è più scontata di così si muore Atalanta salernitana mi spiace per la squadra di Pippo 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 Izaghi ma francamente se a gennaio non la rinforzano lui miracoli non li può fare detto questo ragazzoli io vi ho detto tutto vi saluto vi ringrazio e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao